Al mattino soffri di dolori articolari o muscolari? Migliora la circolazione e dormi sonni davvero rigeneranti grazie alle reti motorizzate per dormire. Il meccanismo di sollevamento testa-piedi è fluido e confortevole e trovare la posizione più adatta a te sarà facilissimo. Puoi scegliere anche la rete sdoppiata per un comfort di coppia migliorato. Scopri le reti motorizzate su perdormire.com Grazie a tutti.